Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare, come un fulmine a ciel sereno, il gioco di ruolo ufficiale di Sea of Thieves a cura della Moonghost Publishing, che io ringrazio di cuore per avermi offerto non soltanto il set base, ma anche il manualone d'avventura che potete comprare sicuramente, e c'è praticamente all'interno una mini campagna, a Tale of Two Captains, che praticamente fa da prima vera avventura, organizzata in un filone narrativo che vanno poi a comporre una vera e propria campagna, e ci sono anche ovviamente regole aggiuntive, nemici aggiuntivi, per tutto quello che abbiamo visto ed adorato appunto nel gioco della Rare, che è Sea of Thieves, che è un prodotto che bene o male piace a tutti ed è sempre divertente. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Sea of Thieves, il gioco di ruolo della Moonghost Publishing, è un classico gioco di ruolo, come se ne sono visti a bizzeffe, soprattutto molto facile come regolamento, ora poi vi faccio vedere anche da vicino cosa c'è all'interno della scatola, che è zeppa, zeppa e ricca di contenuti, c'è anche del materiale da utilizzare, molto bellino, che rimanda al gioco, è un regolamento molto semplice, in un'ambientazione che, senza farvi spoiler, nell'avventura di base, che è un'avventura tutorial che dovrete giocare per imparare le regole, appunto mentre state facendo la prima avventura, sarete a bordo del galeone da guerra di un capitano, un capitano un po' ovviamente truffaldino, siamo tutti pirati Sea of Thieves in questa ambientazione, e la storia inizierà nei Caraibi, e infatti nel manuale della lore ci viene incontro, e mi ha, io tanto è un anno che gioco a Sea of Thieves della Rare, però, mi ha aperto gli occhi sull'ambientazione, perché ci sono cose che non sapevo, ad esempio, la maggior parte dei pirati dell'ambientazione di Sea of Thieves, lo sapete che vengono dai veri Caraibi, lasciate stare tutta la parte di Jack Sparrow, che abbiamo visto con il fatto dei portali, però, il mondo di Sea of Thieves, non è un mondo, ricorda un po' quello di Hogwarts, non è un mondo che non esiste in un'altra dimensione, è una dimensione, è comunque un altro mondo, parallelo al nostro, dove si può accedere soltanto in determinati momenti, infatti nell'avventura di base, voi finirete in mezzo a questo Milestrom, dove ci sarà una specie di portale, forze magiche, che vi sposteranno in questa zona nascosta, però il mondo di Sea of Thieves è un mondo magico e tutto quanto, ma fa parte comunque del nostro mondo, perché appunto l'avventura di base, inizieranno i veri e propri Caraibi, ed è una cosa che a me piace da morire, perché nei manuali che sono qui dentro, che sono tre, c'è il manuale del giocatore, il manuale del Dungeon Master, il manuale della lore, della storia, e poi questa qui, una cosa che potete comprare a parte, che è una prima e vera propria campagna. Il sistema di gioco è molto molto carino, perché noi abbiamo una scheda, fatta diversamente da qualsiasi altro gioco, abbiamo una scheda cartonata, che è più una specie di inventario, e abbiamo tutti quanti i token, che poi li troviamo in gioco, palle di cannone, banane, grog, equipaggiamento vario, ovviamente il bundle, il blasto, la pistola, o il fucile da cecchino, e in questa scheda che abbiamo davanti, che ora nel corso del video vi farò vedere, ci possiamo mettere direttamente i token sopra, e anche soldi, i soldi sono dei token all'interno della scatta, cioè è una via di mezzo fra un gioco di ruolo, e un gioco da tavolo, un board game, è regolamente semplicissimo, noi abbiamo dei dadi leggenda, che ragazzi, potete anche usare i dadi a sei facce, ma nella confezione già ci sono i suoi dadi, e questi dadi possono far uscire quattro risultati, che sono un successo normale, un fallito, normale, un successo inaspettato, che è un successo molto grande, e che vi dà la possibilità di aggiungere qualcosa alla scena, ovviamente deve andare anche bene al dungeon master, non potete fare power play, e un dado invece che è un fallimento ancora più critico, dove non soltanto è fallito, ma è successo qualcosa di brutto, e in questo gioco il dungeon master non tira mai i dadi, lui dà semplicemente una difficoltà, trovate degli scheletri, oppure trovate un gruppo di zombie, un gruppo di tritoni, un gruppo di scheletri che vi attaccano, e hanno in tutto come gruppo difficoltà 5, quindi cosa vuol dire? Chiunque parteciperà al combattimento, potrà tirare tutti i suoi dadi, e successi e anche i fallimenti verranno sommati, quindi se un solo giocatore ha 5 dadi, deve tirare 5 dadi e fare quei 4 successi richiesti, in più c'è un tempo, di solito è un numero, barra un altro, fa prentesi, le difficoltà sono sempre, che ne so, 4, 6, vuol dire che la difficoltà della prova è 4 successi, e avete 6 round per superarla, quindi 6 check, perché magari è una creatura particolarmente lenta, o tirare sulle vele sfuggendo al mare in tempesta un uragano, ed è la cosa veramente carina, perché il Dungeon Master non tira mai un dado, vi darà sempre una difficoltà, salto da tetto a tetto, saltando da tetto a tetto, magari la difficoltà è 6, dovete fare questo tiro, ovviamente più giocatori ci sono, che si danno una mano magari, mentre quello salta, prova a prenderlo dall'altra parte, o gli getta una corda, la difficoltà potrebbe essere, o abbassata, per la prova, oppure potreste voi, tirare tutti quanti i vostri dadi, e mettere i risultati insieme, quindi questo praticamente a conti fatti, è tutto quanto il regolamento del gioco, che poi all'interno è molto più dettagliato, ma è veramente semplice, è un gioco fatto per la narrativa, non avrebbe senso fare un gioco da geni della matematica, con 3000 tabelle e 3000 numeri, per un gioco veloce come Sea of Thieves, che è un gioco votato all'azione, alla narrazione, infatti la narrazione, in questo gioco è la parte in assoluto più importante, ed è un titolo veramente bello, perché all'interno della scatola, come avete visto nel corso del video, è pieno zeppo di contenuti, e l'inventario è realmente un inventario, cioè te ce li devi mettere davvero l'arma, te la devi mettere nello slot dell'arma, i soldi te li devi mettere nell'inventario, cioè è una figata assurda, e per tutti i fanatici di Sea of Thieves, per me non vi deve assolutamente mancare. In conclusione, Sea of Thieves della Bungos Publishing, è un gioco di ruolo per tutti gli amanti del gioco della Rare, ma mi sento di consigliarlo a chiunque, anzi, avete magari un figlio piccolo, magari che ha 7, 8, massimo 10 anni, e vorreste introdurlo un po' al gioco di ruolo, ragazzi questo è perfetto, perché è un po' l'ambientazione che c'è sempre mancata nei GDR, di Monkey Island, consentitemelo, dove non c'è sofferenza, dove non c'è crudeltà, dove anche il discorso di morte non c'è, perché l'avete visto, anche i pirati che muoiono, poi diventano fantasmini, che girano per le isole, Onnecovi e i pirati leggendari fantasma, quindi fondamentalmente non c'è il discorso, il concetto della sofferenza e tutto quanto, ed è veramente, veramente molto bello e interessante, per introdurre qualcuno al gioco di ruolo, questo è il top. Io le ringrazio ancora una volta per avermi offerto tutto quanto questo contenuto, che sarebbero la scatola base e un manuale opzionale, che è una prima e vera propria avventura, da fare singola, organizzata in campagna, vi lascio il primo link in descrizione, dove acquistarlo direttamente dal sito, e ragazzi, come dicevo all'inizio, prima del video, in apertura, in sigla, è stato un fulmine a ciel sereno, perché l'ho scoperto a caso. Girando così sui siti, l'ho scoperto e ho detto, ma cos'è un Kickstarter che deve già iniziare? No, 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 invece era un prodotto già pronto e finito, perché quella che vedete qui davanti non è una demo, e io non vedevo veramente, veramente l'ora. Ne sono contentissimo, e non ve lo nascondo, mi ci farò una bella partita con mia moglie. Ciao ragazzi, alla prossima!